bello non so se la gaia ma han preso a me perfetto sacrificati 19 di vita spetti ho preso il palo ma lo metteranno tendite la granata dica ma dov'è che ha gommito ma la melo a gommito la melo trappola uno che mi dà una mano bravissimo faccio la trappola non ha uno la uno la una copri 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 ragazzi ne avete uno a nord ovest 330 è andato non ho confermato uno bravissimo figlio molto bene molto bene tieni 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 ok ok vai tranquillo grazie josh e ma ti salva la partita come sempre più forte fai l'ultimo l'ucciso io e non si rubi saluta seno ma chi grazie grazie ok riesco a giocare in queste condizioni non riesco a giocare in queste condizioni allora 412 io che puoi prendere questi sono arrivati lì allora allora mi fate rifare il mio cazzo di medikit stiamo c'è un problema c'è da ridere allora c'è un problema per favore voglio voglio gli cilini dove stanno gli cilini non ce n'è più sono dietro li ho pingati no 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 stai dicendo non ce la faccio non ce la faccio andiamo ragazzi vamo si aspetta ripinga me la velo no senza senza ripinga e a gomitolo melo riappallotto la mia pallotta melo 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 no no temi temi scaldivano lo scandinavo let's go non sei capace a dirlo libero e diga diga scaldivano lo scandinavo guarda quanti ce l'ho 2800 pezzi in pezzi da cento josh è come se hai presente quelli che con la calamita vanno una foto ai trevi no che poi danno grazie josh grazie mille josh josh grazie mille josh con il cuore grazie di aereo io non c'è grazie anche di quelli 490 ciao chi vada in si spiegano ma ti ho dato i voli c'è la safe dietro sono pazza da lasciare qua ma io sono piccoli ho lasciato 230 cos'è che sta succedendo in questa partita ho lasciato 230 colpi ho lasciato c'è ognuno che dice una cosa diversa che non ha senso c'è un tipo la comunque che sta sparando il mazzo grazie sulla casa ma hanno cambiato i colori delle delle munizioni comunque secondo me hanno cambiato proprio i colori del gioco non riesce a notare i colori dei delle munizioni ma adesso riesce a scrivere la cazzo di trappola alla per favore per favore non è due volte mi state divertendo molto andiamo grazie mille josh mi piazza un muro davanti ma grazie mille quale qua ho messo il muro un problema che ahia ma chi ma dove ma chi è qua ma da dove da dietro io ero lì sicuro fermo non puoi mai stare oh ma dai cazzo ci sparano riagomitolamelo aspetto un momento riagomitamelo Bu hai lasciato sei shildini eh cioè dove sono morte esce vola con tanto fiatta gola mi vado a rissarti mi butto nel gestito ma è pazzo ma è chi ma quanto spammono questi ma c'è mai che è andato via da solo ma c'è mai che è andato via da solo sanno le fibie ma tu sei un fa fai fai non ce la faccio non parano sono nel campo di grano so sì meglio solo la pistola ma nei campi di grano con calma con calma non ce la facciamo non c'è ora che cazzo fai con me vieni figlie siamo qua dentro figlie ma puoi entrare anche tu abbiamo gente è un problema mi è appena passato uno davanti io c'ho uno davanti mi sta sparando solo me a terra io lo so capì un cazzo no se mi finisce sono qua xxu scendini please calmi 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 io ho 25 di non devi fare nulla fibie sono fermo bravo non muoverti ho preso la scheda dire molto bravo ma continua a non muoverti fibie sono fermo sono fermissimo scoppa 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 fermi tutti stia fermo stia fermo stia fermo si vado a mai parlare così che mi metti ansia aspetta un secondo già la tua voce è abbastanza ansiolitica se poi mi parli così stia fermo c'è solamente resti immobile come il suo cavo manca la mia cazzo c'è una cura della tua grazie fermo fermo non dite nulla mettere sotto la canzone sottofondo eccole eccole con il passo prenda lanciaranzi fatelo considera fatelo considera cosa so cosa sono spalle in faccia posalo con il passo a classico maiale cosa magico scusi allora armi armi no non ho colpi però no vi do i colpi non vi preoccupate si troppo qua delle cose vi troppo questo 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 non ho spazio io non devo venire qua e dividere tutto ragazzi qua prendetevi tutto arriva gente passa io ho solo due colpi di pompa e tra i gas siamo 4 v3 problema che non ha colpi quasi niente a terra 1 4 v2 davanti a me davanti a me anche uno lì oh mio dio mi sto cagato che colpi ti servono a me colpi a r mi servono aspetta via da qua è qua pezzo di merda è un abbo colpi 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 oh mi trasporti mi trasporti vai vai portalo via portalo via che ti devo dare il colpi chiudete 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 mi mi vai ascoltami macchino io faccio fatica con te ma di che cosa aspetta che non te li do i colpi che mi sta chiedendo i colpi allora io non ho molto colpi ok qua li ho dato la giudo io la giudo io mi provo a me ho bisogno di colpi pompa ne ho 1 ragazzi ma ho appena troppato tutto quello che avevo appena droppato siamo 4 v1 ragazzi ecco io 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 qua questa partita la carico se la vinciamo sì sì la carico ma li ho droppati no totale troppo altri doppiati questi pulpi ok oh tu cosa c'è sta dove sei brutto pezzettino di merda dove sei no ho sparato un coppifaccia ammazzate su qua 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 aspetta un'acqua non rida non rida non rida oh raga dovete farlo raga ma io non ho capito ancora dove essere benissimo aia qualcuno può ammazzare questo una divina siete in tre oh mi faccio schifo giro giro riasse mi guarda qua dentro qua dentro ammazzatelo la serata la serata grazie vittoria lol oh la